e poi via via che si va All'interno è Apache Kid, all'esterno Evil Spade, tra i due Zappel, seguono Pivotal Rio, Noterful Power, Isshasha e Plus Schema V E' in vantaggio Apache Kid, attaccata all'esterno da Everspeed, a centropista Zappel, seguono Plus Schema V, Pivotal Rio e Noterful Power E' in leggero vantaggio Zappel, attaccata all'interno da Pivotal Rio, conduce Zappel davanti a Pivotal Rio ed Everspeed, resiste Zappel, davanti a Pivotal Rio, Everspeed e Plus Schema V E' in leggero vantaggio E' in leggero vantaggio E' in leggero vantaggio E' in leggero vantaggio